Buonasera ben ritrovati con la nostra informazione in apertura del nostro telegiornale primo piano sull'omicidio di Santa Maria del Molise dove questa mattina è stato ucciso Carlo Giancola ha 72 anni, ex dipendente dell'ASREM, le indagini vanno avanti, sentiamo tutte le novità nel nostro servizio I vicini di casa non hanno sentito alcun rumore ma Carlo Giancola è stato colpito con violenza alla testa la moglie sola in casa ha avvisato il nipote che lo zio era morto, sono stati poi i figli della coppia a chiamare i carabinieri e così nel paese a Santa Maria del Molise è partito il via vai di auto, prima quelle dei soccorsi inutili poi a poche decine di metri dalla chiesa nel centro abitato sono arrivati anche i carabinieri che hanno delimitato la zona dietro le finestre di questo palazzo a poche decine di metri dalla chiesa del paese Irma Forte e Carlo Giancola conducevano una vita normale entrambi pensionati, 72 anni, lui ex dipendente dell'ASREM, di qualche anno più giovane lei casalinga dopo aver mandato avanti un negozio di generi alimentari chiuso una decina di anni fa vengono descritti come una coppia esemplare, da qualche mese lei accudiva il marito reduce da un ricovero al neuromed per una caduta nella quale aveva riportato una lesione alla testa una circostanza che in un primo momento aveva lasciato aperto il barco all'incidente domestico anche in questa occasione l'indagine diretta dal procuratore Carlo Fucci e portata avanti dal sostituto procuratore Marco Gaeta che si è recato sul posto è per omicidio volontario, l'ipotesi è quella di una lite in famiglia sfociata in tragedia gli investigatori stanno concentrando la loro attenzione sull'arma del delitto un oggetto che era in casa con il quale la donna avrebbe colpito il marito alla testa uccidendolo Irma Forte è stata portata in ospedale perché sotto shock poi in caserma per essere sentita ora è agli arresti domiciliari nell'abitazione di alcuni parenti il corpo della vittima invece è stato portato all'obitorio dell'ospedale di Isernia dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia una notizia che ha scosso il paese alla vigilia di Natale e sorpreso le persone che conoscono la coppia di pensionati una vigilia di Natale che ha rimandato ad un anno fa quando a Campobasso finì nel sangue una lite scoppiata per questioni di droga la sera del 24 dicembre rimase senza vita sull'asfalto di Via Vico Cristian Micatrotta proprio qualche giorno fa davanti al GUP che lo ha rinviato a giudizio per omicidio premeditato è comparso Gianni De Vivo a distanza esatta di un anno a Santa Maria del Molise la vigilia di Natale è stata scossa da quanto accaduto in paese dove il suono delle campane della chiesa stavolta non ha avuto il sapore della festa e abbiamo ascoltato le testimonianze dei vicini di chi conosceva in paese la vittima che faceva il sacristano sentiamo Valeria Migliore una coppia che molte persone in paese definiscono esemplare entrambi pensionati e una vita di lavoro lui ex dipendente dell'ASREM in provincia di Sernia lei casalinga e un passato da commerciante un negozio di generi alimentari chiuso una decina di anni fa li conoscevate bene? eh sì, vicino di casa è qua c'era poi 5 anni dopo di me è una brava persona, ci siamo rispettati comunque non posso dire male mi dispiace quello che è successo tempo di festa, Natale, succede una cosa di questo non è una cosa bella due figli e la routine quotidiana la donna da qualche settimana si prendeva cura del marito reduce da una convalescenza dopo un ricovero Carlo camminava con qualche difficoltà, dicono i vicini lui si doveva curare, aveva necessità di curarsi e basta adesso non doveva stare necessariamente così la moglie lo accudiva per me è stata una sorpresa perché passavo da qui ho vissuto tutta questa confusione sarà successo qualcosa di grave mi hanno detto che è morto Carlo una coppia normale è normale, certo che è normale quindi no, niente di tutto questo da quanti anni erano sposati? non mancavano una messa perché poi Carlo Giancola era anche il sacrestano della chiesa di Santa Maria Giacomo e Filippo a poche decine di metri da casa sì, era sempre presente la domenica poi la mattina veniva ad aprire il cancello cioè, più che cancello, la catena che chiude il parcheggio della chiesa e poi stava lì presente in chiesa ad aiutare se c'era da accendere qualcosa ecco, ma in paese che cosa si conosce di questa coppia? beh, una coppia normale di vecchietti che stava un po' affiatati sì si prendevano cura l'uno dell'altro insomma, sì si volevano bene un paese di poche centinaia di persone Santa Maria del Molise la cui vigilia di Natale è stata scossa da una tragedia le indagini aperte dalla procura di Sernia e condotte dal sostituto Marco Gaeta diranno che cosa realmente è accaduto dietro le mura della casa di Via Foscari beh, non posso rilasciare, mi dispiace però si indaga per omicidio? eh, non posso parlare davvero che cosa state cercando, comandante? no, stiamo accertando i fatti stiamo accertando i fatti questo cambiamo argomento parliamo di politica a poche ore dalle sue dimissioni da assessore Vincenzo Cotugno si presenta ai giornalisti con il governatore Toma per spiegare le ragioni che lo hanno indotto ad assumere una decisione sofferta ma necessaria, ha detto intanto il Presidente della Regione ha annunciato che per il momento le deleghe affidate a Cotugno restano congelate e ogni decisione sarà assunta successivamente Anna Maria Di Matteo la responsabilità da parte di tutti i consiglieri prevalga sui, io li chiamo i trucchetti da passatella da barra ecco lei teme appunto il prossimo appuntamento l'approvazione del bilancio o si fida della sua maggioranza? cerco di agire secondo criteri di giustizia poi posso anche sbagliarmi ogni tanto faccio ammenda e rifletto su quelle cose che ho fatto non ho timori Nel nostro Molise paghiamo lo scotto di una povertà sanitaria desolante che tocca tutti i livelli non è possibile prenotare in ospedale un'attac da qui a sette mesi lo denuncia il Presidente onorario della Lilt della provincia di Campobasso il chirurgo Giovanni Fabrizio in occasione del bilancio delle attività della Lega per la lotta contro i tumori svolto nella riunione di Termoli non è possibile che i pazienti neoplastici chiamati a sottoporsi a controlli per valutare l'efficacia delle terapie aggiunge Fabrizio e scongiurare l'avanzamento della malattia non abbiano una corsia preferenziale per ridurre i tempi di attesa Cambiamo argomento parliamo ora della vigilia di Natale sulla tavola dei molisani certo non manca il pesce nonostante l'aumento dei prezzi nessuno infatti sembra rinunciare al cenone tradizionale come emerge nelle interviste realizzate da Francesca Danvers Mancano poche ore al cenone della vigilia e tanti termolesi questa mattina hanno affollato i banchi del pesce per gli ultimi acquisti il mercato di San Timotio è una meta fissa per chi vuole acquistare prodotti ittici locali calamari, vongole, alici non possono mancare sulle tavole del 24 dicembre in molti hanno preferito fare acquisti nei giorni precedenti un po' per evitare la calca ma anche per la paura che i prezzi aumentassero al ridosso delle festività tutto a base di pesce minimo 12 portate e questa è la tradizione così quindi anche se i prezzi quest'anno dicono sono aumentati comunque le tradizioni si rispettano a tavola certamente ma i prezzi comunque di poco sono aumentati basta pensare al gasolio all'elettricità tutto è aumentato tutto e pure loro si sono dovuti adeguare calamari e vongole le anguille vanno sempre a decadere è un articolo che non va più come una volta è arrivata tra l'altro alle stelle l'anguille quindi meglio così però i prezzi insomma qualche prezzo le anguille sono aumentate tantissimo il resto diciamo che noi le abbiamo vendute sempre allo stesso prezzo o ci adeguiamo o non vendiamo hanno comprato diciamo che hanno comprato bene ma come si vede è quasi finito tutto il pesce i prezzi sono almeno noi del pesce quasi uguali qualcosa in più sì però quasi uguale i calamari 15 euro 16 euro i gambri 10 euro come vendevamo prima vendevamo ora meluzza 10 euro che aumento è stato? qui non si può comprare più niente è impossibile è una libertà data a tutti quanti a tutti i commercianti che sporadicamente diurnamente tutti i giorni aumentano senza remissione di peccati non si può comprare nella pasta nel pane nella carne il pesce poi per carità fosse mai il pesce dalla costa arriva anche a Campobasso dove le pescherie sono state prese d'assalto sono giorni particolarissimi perché c'è un'affluenza veramente incredibile ringraziando Dio noi ce la stiamo mettendo tutta per accontentare tutto il popolo di Campobasso perché veramente ne siete tanti 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 un incidente stradale si è verificato questa sera alle porte di Portocannone nello scontro frontale tra due auto i conducenti dei veicoli sono rimasti entrambi feriti sul posto il 118 e le forze dell'ordine un altro incidente si è verificato sempre nel pomeriggio nella zona di Colle delle Apie a Campobasso un uomo è rimasto ferito in modo non grave e torniamo a parlare dell'accorpamento delle elementari di Trivento con le medie nella struttura di via Acquasantianni perché c'è chi ha manifestato contrarietà il commissario straordinario dell'istituto omnicomprensivo Scarano Mario Laguardia in una delibera ha spiegato il perché Tonino Danese l'accorpamento deciso dall'amministrazione comunale delle elementari con le medie a Trivento nella nuova struttura di via Acquasantianni per un maggiore risparmio energetico non trova d'accordo il commissario straordinario dell'istituto omnicomprensivo Scarano Mario Laguardia che in una delibera ha spiegato perché è innegabile che ci sono stati degli aumenti dei costi energetici però tutte le amministrazioni comunali d'Italia sono state risarcite in qualche modo dal governo centrale e anche Trivento ha ricevuto dei fondi quindi il risparmio energetico poi che si genererà sarà praticamente molto contenuto e quindi non vediamo questa esigenza così pressante da andare a penalizzare la scuola lei aduce anche altre motivazioni dicendo che ci saranno dei problemi su più fronti quali? quello che più ci interessa a noi scuola è appunto questo quindi la riduzione degli spazi è vero che contando le aule tutto va al suo posto però come ho scritto nella mia delibera la scuola ha bisogno anche di spazi a disposizione per attività che vanno oltre diciamo la didattica normale e quindi questa situazione non l'avremmo più a Trivento non avremo più la possibilità di progettare il futuro in che senso per accedere ai finanziamenti europei per avere diciamo disponibilità di laboratori e quant'altro secondo la guardia infine l'accorpamento comporterà problemi a dare seguito alla richiesta di accreditare l'istituto come ente di formazione professionale c'è un'idea geniale che ha avuto la scuola proponendo appunto questa iniziativa per la quale abbiamo già diciamo trovato tutte le caselle da mettere al suo posto quello che ci serve adesso sono solo i locali e noi abbiamo chiesto appunto all'amministrazione diciamo di utilizzare i locali dell'acqua santiani della scuola di visita a via acqua santiani adesso una volta che verrà occupata dalla scuola primaria non avremo più nessun nessuno spazio più a disposizione l'amministrazione comunale ci ha detto che ci darà altri locali ma altri locali che possono essere adeguati per una scuola io non ne vedo vedremo che cosa ci dirà l'amministrazione secondo il rapporto istat sulla natalità in molise le nascite continuano a diminuire mentre l'età media delle neomamme è di 33 anni sono dati allarmanti se non si inverte la rotta dicono gli esperti la nostra regione rischia di scomparire sentiamo in molise si diventa mamme sempre più tardi spesso rinunciando a lavorare o lavorando con contratti part time lo rivela l'istat nel rapporto natalità e fecondità della popolazione residente nel 2021 le matri molisane alla nascita del primo figlio hanno un'età media di circa 33 anni superata solo da quelle del Lazio Basilicata e Sardegna una regione che invecchia dati poco incoraggianti confermati anche dal accensimento della popolazione in un solo anno il molise ha perso circa 2144 residenti a diminuire sono anche i cittadini stranieri oltre alla pandemia ad incidere sulla diminuzione delle nascite sono anche gli abbandoni i giovani si trasferiscono in altre città italiane o all'estero in cerca di lavoro il governo aveva annunciato l'intento di adottare una serie di provvedimenti per far fronte al problema una misura che sarebbe più che mai necessaria in molise dove il fenomeno dello spopolamento è più grave rispetto ad altre regioni fino al 28 dicembre nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio ci saranno aperture straordinarie dei musei e dello scavo archeologico di Sernia che fungerà anche da infopoint turistico della città le aperture fa sapere il comune attive dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 saranno garantite dalle associazioni Memo e Isarc una sala gremita quella dell'auditorium di Isernia per il concerto di Natale dell'istituto Giovanni XXIII oltre alle classiche musiche natalizie anche brani più moderni per simulare la riflessione su temi attuali come la guerra in Ucraina sentiamo una sala gremita all'auditorium di Isernia per l'appuntamento con il concerto di Natale degli alunni della Giovanni XXIII da un lato le classiche musiche natalizie come Lady Snow White Christmas e Natale Sarà e dall'altro brani moderni come Essere Umani di Marco Mengoni e Imaging di John Lennon tu hai cantato quest'anno quali canzoni hai cantato? Essere Umani ce la fai sentire? Credo negli esseri umani credo negli esseri umani credo negli esseri umani che hanno coraggio coraggio di essere umani credo negli esseri umani credo negli esseri umani credo negli esseri umani che hanno coraggio coraggio di essere umani i giovani talenti preparati dal docente Walter Colalongo hanno augurato a tutti Buon Natale ma non senza riflettere su temi attuali come la guerra in Ucraina la tua preferita qual è stata? Imagine perché? ti piace il senso di questa canzone? sì sì mi ha colpito il fatto che in John Lennon si rivolge a immagina un mondo tutto in pace senza razzismo tutti uniti e mi ha colpito soprattutto perché in questo momento c'è questa situazione di guerra in Ucraina quindi è molto a tema diciamo questa canzone un po' un po' di brani di tutti i generi da Lady Snow e Last Christmas che sono brani usciti più di recente come per esempio Greensleeves che è un brano della cultura popolare inglese abbiamo studiato c'è un po' di brani di vari generi diversi rivisitazioni in generi diversi di brani tradizionali per esempio il brano classico Astro del Ciel che è stato rivisitato in chiave Jets dal nostro professore di Sassofono Dopo continuerai a suonare? Beh sì è uno strumento difficile però sì continuerò a suonare perché è uno strumento che ho scelto io e mi piace molto come proprio il tocco che usano i chitarristi e spero di diventare una brava chitarrista E nel concerto cosa hai suonato? È solo io ho soltanto tre brani Let Is Know Greensleeves e Natale Sarà che mi sono piaciuti veramente molto L'augurio è che la musica in futuro possa aprire per gli studenti anche delle porte nel mondo del lavoro Ci auguriamo che questi ragazzi così possano un giorno diventare famosi e che qualcuno ce la faccia in modo da aver così capitalizzato questi tre anni di studio nella nostra scuola Spazio anche ai più piccoli i bambini dell'infanzia che con la loro tenerezza hanno incantato il pubblico dell'auditorium A Carovilli va in scena ormai da anni un caratteristico presepe vivente che coinvolge buona parte della comunità la rappresentazione è in programma per il 26 dicembre la ricostruzione del villaggio è minuziosa con moltissimi figuranti anche quest'anno in occasione della 25esima edizione nessun dettaglio è stato trascurato dall'associazione Gli Amici della Storia delle tradizioni che cura l'evento il primo evento della rassegna B-side della Biennale dell'Incisione al Palazzo Gil martedì alle 18.30 il concerto due duo fugata Pasquale Farinaccia al violino e Mario Muccitto alla Fisa Armonica musica dal grande schermo interpretazione di colonne sonore di grandi capolavori cinematografici del passato e del presente ingresso con il biglietto alla mostra questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci seguito a tutti voi da tutta la redazione di Tele Molise una buona vigilia di Natale grazie per averci seguito